Banca Mediolanum per me è una famiglia. È talmente veloce che ti permette l'accesso anche mentre stai facendo altre cose. Cucini il sugo, accedi. Puoi fare tutte le operazioni, che tra l'altro sono anche gratuite. Non sei un numero, un numero di conto corrente. Banca Mediolanum ti vede e ti avvicina. Con Mediolanum puoi avere un conto a canone zero e le principali operazioni gratuite, perché al centro ci sei tu. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Banca Mediolanum.